Giornata della memoria, gli studenti dell'Istituto Sacro Cuore lo hanno ricordato attraverso un filmato che ricostruisce la figura di Vincenzo Lastrina, eroe melillese che salvò la vita a numerosi ebrei e antifascisti. Giorno della memoria per raccontare la Shoah, una delle, anzi forse la più grande tragedia di tutti i tempi che ha sconvolto qualunque rapporto sociale, umano. Voi avete cercato di farlo andando alle origini di una storia, una storia che poi ampliandola con la ricerca documentale e delle testimonianze racconta tanto. Proprio così, il giorno della memoria, abbiamo cercato quest'anno di realizzarlo in un modo diverso perché abbiamo invitato gli alunni a vedere direttamente le fonti, conoscere le fonti, conoscere un personaggio che forse a Siracusa si conosceva poco. Abbiamo studiato chi era Vincenzo Lastrina e per fare questo i nostri alunni hanno addirittura esaminato i documenti, i documenti che ci sono stati forniti da uno dei nipoti, il dottor Vincenzo Lastrina, proprio il nome dello zio. Quindi i ragazzi attraverso questo progetto hanno scoperto il grande valore di quest'uomo che è stato capace di dimenticare se stesso, di dimenticare chi era perché ha aiutato tante persone a sfuggire proprio quello che poteva essere, essere deportati. E lui, sapendo questo, ha rischiato la sua vita. Bellissime alcune poesie che hanno letto i ragazzi. Il valore della vita, il valore della vita che lui, nonostante fosse, che poi la sua vita è finita nel campo di concentramento, quindi nonostante potesse capire qual era il rischio che dava, ha sempre dato il grande valore per dire io la vita la amo, io la vita la vivo, io la vita... E i ragazzi, per realizzare questo, hanno fatto addirittura un filmato, riportando tutto nella realtà. Quindi sono diventati attori e nello stesso tempo, vivendo il grande valore che è quello della memoria. Grazie.